La competenza tecnica del venditore. Nella prima sezione abbiamo sottolineato l'importanza della percezione di preparazione tecnica del venditore, quale elemento essenziale della costruzione di un rapporto di fiducia con il proprio cliente. Io cliente percepisco che tu venditore sei un vero esperto nel tuo settore e che sei molto preparato sulle caratteristiche e tecniche dei tuoi prodotti. Ma cosa vuole dire per il venditore consulente di fiducia essere competenti? Significa in primo luogo conoscere molto bene il proprio prodotto o servizio. Il venditore potrà anche non essere un super esperto. L'importante è che le sue conoscenze gli permettano di rispondere in modo sicuro e preciso alla maggior parte delle domande del cliente. Facciamo un esempio. Una commessa di un negozio di abbigliamento probabilmente non saprebbe cucire un cappotto, ma non potrà fare a meno di conoscere molto bene la tipologia dei tessuti e la fattura dei singoli capi del suo negozio, nozioni che le saranno fondamentali per servire e soddisfare al meglio i propri clienti. D'altra parte, conoscere il prodotto o servizio non è quasi mai sufficiente. Il venditore consulente di fiducia dovrà essere esperto, dei propri concorrenti per poter fare confronti oppure per rispondere alle obiezioni, del mercato in cui opera e delle tendenze del momento, del marketing praticato dalla propria azienda. Proviamo ad effettuare un'autovalutazione su questa area, come nei casi precedenti. Al termine sommiamo il punteggio e calcoliamone la percentuale rispetto al punteggio massimo teorico. Competenza tecnica. Conoscenza dei prodotti e servizi della mia azienda. Autovalutazione. 1 uguale pessimo e 10 uguale ottimo. 2. Conoscenza del mercato. Autovalutazione. 1 uguale pessimo. 10 uguale ottimo. 3. Conoscenza dei prodotti e servizi della mia azienda. Autovalutazione. 1 uguale pessimo. 10 uguale ottimo. 5. Conoscenza delle strategie di marketing della propria azienda. Autovalutazione. 1 uguale pessimo. 10 uguale ottimo. Punteggio in percentuale sul massimo punteggio totale 50. Attenzione però a non essere troppo tecnici, perché altrimenti il rischio è di ostacolare la comunicazione. Come per esempio capita quando il venditore utilizza un linguaggio molto complesso, riprendendo l'esempio dell'avvocato del primo capitolo, un linguaggio troppo giuridico. Questo può ostacolare la comunicazione e quindi il fattore più importante della nostra equazione della fiducia è l'orientamento al cliente. Al vero venditore non interessa vantare il proprio sapere, ma comunicare in maniera efficace, cioè costruire un buon rapporto interpersonale e poter muoversi verso la chiusura della vendita.